eccoci qua ciao a tutti e oggi abbiamo l'ultimo incontro del nostro corso insegnare con creatività e bellezza allora abbiamo un programma nutrito ma come al solito partiamo per un breve report dell'incontro precedente vediamo intanto se sugli instant video abbiamo avuto delle consegne dunque abbiamo avuto delle consegne diamo un'occhiata un po casuale di qua e di là vediamo vediamo per esempio a questo è un filmato è un filmato che sì io non c'ero la volta scorsa alberto per cui ho realizzato subito il video o anche però lo scrivo se ti interessa certo mi interessa allora questa è sabina tu sei sabina giusto bene allora scusate però devo riprendere la condivisione perché non mi ricordo se ho attivato anche le funzioni di ottimizzazione dell'audio ok bene allora vedete tutto e tutti qui questo grande autore americano vediamo che cosa dice the author of the short story is J.D. Salinger an american writer one of the greatest of the 20s center wow brava a perfect day for banana fish is a short story written in 1947 his masterpiece is the catcher in the rye which became an iconic novel for various generations the short story is set in the USA and more precisely in Florida where affluent people would spend their winter holidays and now the characters the main protagonists of the short story are Seymour Glass a veteran of the second world war his wife a nice but shallow woman and little Sibyl the guy Seymour meets on the beach the major themes of the short story are the disruption of men and women caused by the second world war the criticism to the materialistic society that was asserting itself in the western world and the impossibility of an authentic communication one of the leading motives of the short story is that of Seymour have you reflected on the names of the characters? ottimo direi che è perfetto ha interpretato in modo eccezionale quello che abbiamo appreso l'altra volta che però tu non c'eri o c'ero? no no non c'ero ma ho seguito appunto ah hai seguito la registrazione sì 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 ho guardato la registrazione e forse adesso riguardandolo avrei potuto magari mettere qualche caption qualche didascalia in più tipo second world war qualcosa perché questa è la short story esatto magari qualche citazione così sarà la short story con cui intendo iniziare il mio programma di quinta quest'anno sì perché loro piace molto a me anche molto bella sì intendo partire da lì perché diciamo assolutamente ottima scelta per cui pensavo poi di far fare il transcript di questa cosa certo devi far fare il transcript perché loro così imparano esatto ascoltando imparano proprio a transcrivere anzi se me lo consenti io questa questo video lo utilizzo perché è raro avere diciamo un prodotto da parte degli insegnanti in lingua ed è perfetto no da fai da far vedere così sì sì non c'è nessun problema figurati sì sì non c'è nessun problema e appunto pensavo di adesso vedendolo l'ho fatto in realtà a real time mentre tu spiegavi io ho preso c'è voluto non tanto a fare il video ma c'è voluto più tempo a chiaramente a fare lo script e a dire quei che per me questa è un'attività dico per i colleghi introduttiva cioè io assegno e poi dopo lavoreremo in classe però almeno mi sembra che come conoscenze minime questi siano sufficienti per capire chi è l'autore che cosa vuole lasciarsi poi certo ma poi tieni conto che tu con un filmato di questo genere ci lavori per dei giorni perché lo puoi utilizzare in tutti i modi anche facendo analisi anche per esempio alla fine di tutto tu potresti anche consegnare il tuo script a loro dopo che loro l'hanno ricavato da sé per chiedere di realizzare un prodotto simile variando lo script sullo stesso argomento ah certo sì 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 quindi diventa una miniere incredibile è vero che ci vuole un attimo a prepararlo cioè ci vuole un attimo di tempo a prepararlo però è un'attività molto cognitiva diciamo sì l'attività a parte che l'ho trovato formativo perché ha obbligato anche me a riflettere su quello che avrei voluto insegnare tramite questa short story cioè ho detto ok l'assegno dove voglio andare a parare quali sono le cose che mi interessano esatto infatti lo scopo è anche questo proprio di aiutarci a riflettere su come noi lavoriamo con i contenuti proprio dove andiamo a parare è proprio la diciamo l'hai reso molto bene ok grazie quindi ti piace la letteratura americana perché insegni inglese o insegni inglese no è tutte e due le cose sono proprio un'appassionata anche di didattica e questo mi piace molto e secondo me proprio calza molto bene rispetto allo smarrimento se qualcuno lo vuole leggere è disponibile gratuitamente lo smarrimento del ventesimo secolo perfetto molto bene allora io ne approfitto per dirti che nel mio blog sai albertopian.it no? sì sì ho proprio inaugurato qualche giorno fa una nuova sezione che si intitola storytelling attraverso la letteratura siccome anch'io sono un grande appassionato di letteratura americana ecco che per esempio trovi un lungo saggio su questo per dire no e anche su altre cose vedi anglosassone americana ma io scusami ho visto adesso porto via un istante agli altri ma ho visto che sul tuo sito reclamizzavi un corso di storytelling esatto mi chiedevo se è mai attivo cioè ci si può che cos'è ci si può iscrivere effettivamente questo sì sì è un corso a cui ci si può iscrivere ma che non consiglio agli insegnanti però perché è dedicato a professionisti della narrazione quindi è dedicato a chi scrive a chi è pubblica e soprattutto a chi fa storytelling magari aziendale eccetera non utilizziamo applicazioni informatiche di nessun genere proprio lavoriamo lavoriamo poi qui su questo manuale che ho appena finito di scrivere che non è pubblico per il momento riservato agli iscritti al corso poi magari lo renderò pubblico però bisognerà sempre nell'ottica della magnanimità però avrà un prezzo molto alto gli insegnanti curiosi non si possono iscrivere sì sì certo no cioè bisogna avere proprio un interesse insegnanti eclettici diciamo così sì ma bisogna avere diciamo una passione un interesse per questo ecco sì no 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 d'accordo mi chiedevo ok lascio voce agli altri adesso tra un fine mese così darò delle ulteriori indicazioni sulle date perché pensavo non ho ancora stabilito le date pensavo di tenerlo durante le periodo natalizio tipo sai 28 29 30 una cosa del genere ma potrebbe essere perché dovrebbe essere su un weekend è un corso intensivo quindi un sabato completo sei una domenica sì ho visto visto più un altro giorno molti esercizi eccetera però proprio sulla formulazione della storia andare a individuare i temi cercare di capire come si creano come si comunica eccetera va bene allora io direi perfetto bravissima fantastico vediamo 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 non questo ancora a mano ma adesso non possiamo dire lo stesso nel corso di anni ha distrutto la terra per i suoi interessi questa è proprio la recitazione quindi deve essere chiaro per tutti partiamo proprio dalla dalla voce narrante del voice over proprio perché e poi aggiungiamo le immagini quindi non il contrario il pericolo che rischiamo questi sono i titoli perfetto se l'uomo continua a terra le pietudine potrebbero sparire oltre a quelli stenti le conseguenze se non smettiamo di danneggiare la terra benissimo quindi qui abbiamo il cuore della dell'esposizione immagino che è come migliorare questo è proprio il centro qui abbiamo una parte introduttiva di esortazione e di introduzione poi qui abbiamo invece proprio il tema centrale quindi sette piccoli gesti quotidiani molto bello questo perché poi è un po è molto americano no i cinque passi per i dieci step per eccetera eccetera però è anche molto efficace perché con gli studenti si ricordano bene no che sono cinque sono tre sono sette quindi molto giusto cosa posso fare io esattamente quindi ridurre il consumo eccetera d'accordo poi obiettivi da raggiungere chiaramente qui quindi abbiamo la conclusione poi un'esortazione finale direi che come struttura va benissimo poi naturalmente roberta può aggiustare qua e là le singole formule ma direi che proprio strutturalmente corretto non so se c'è roberta si si sto qua professore no chiamami professoressa se vuoi chiamami professore si figuri non accendo la telecamera perché sono stata ricoverata in ospedale ah figurati ma sei in ospedale adesso si infatti mi dispiace che è successo è stata una cosa d'urgenza ho avuto vabbè io ho problemi cardiaci quindi ho avuto delle fibrillazioni atroci e mi hanno dovuto ricoverare ah caspita mi dispiace tanto spero che passi sì rapidamente speriamo purtroppo soffrendo di pericardite vado subito capito certo va bene allora cerchiamo di non emozionare troppo la nostra collega non diciamo cose troppo che colpiscono troppo dove dovrei aggiustare se posso saperlo così io poi con calma me l'aggiusto anche no io dicevo che la struttura va bene poi diciamo le singole espressioni frasi quelle sono un compito tuo no da sistemare se devono essere sistemate però direi che proprio ci siamo ci siamo un'ottima comprensione del lavoro è solo da trasformarlo ovviamente in un istante video sì sì questo lo faccio sì ok ok grazie va bene allora abbiamo un minuto ancora per vederne un altro a Cosmi ma forse l'hanno visto no è consigliato ma non c'è nulla Maria Grazia qui Maria Grazia gli ecosistemi ah sì questo ne avevamo parlato se non sbaglio era un lavoro in progress Rosina anche qui ecco qui per esempio queste frasi sono da unire cioè queste queste parole questi lemmi sono da unire perché la frase dovrebbe essere di senso compiuto tu hai bisognerebbe seguire un'articolazione per la quale esponi un concetto poi magari continui se il l'esposizione è composta da due o tre periodi ecco puoi spezzare i due o tre periodi però non proprio così perché così è troppo frammentato è giusto per capire ok Alberto potresti vedere il mio? sì chi sei? Tarantino 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 è solo una bozza però sì dove sei? Tarantino eccola qua dunque ne ho due un link un link questo ecco e il video dici proprio giusto? sì anche ti ho messo pure quella scheda ah bene vediamo una bozza eh sì sì certo i numeri naturali sono apparsi nel 300.000 avanti cristo ogni popolazione ha elaborato un proprio sistema di numerazione gli antichi egizi svilupparono ottime conoscenze matematiche alla fine del quarto millennio avanti cristo gli egizi disponevano già di un sistema di numerazione decimale i numeri naturali anche nei nostri giorni costituiscono il primo ambiente matematico costruito e utilizzato dall'umanità sì ascolta ci siamo ci siamo volevo solo dirti due cose dimmi dimmi allora qui c'è una schermata molto interessante che va via che va via subito dopo il titolo ecco questo questa dovresti regolarla in modo che resti su tre secondi ok va bene ok poi qui io ho seguito il tuo consiglio di aspettare un secondo prima di avviare la voce e poi al termine sì infatti la narrazione è perfetta va benissimo wow anche la tonalità il modo con cui posso anche fare la doppiatrice di no di no di no di no sì sì puoi fare anche la quadruplicatrice la triplicatrice quello che vuoi sì assolutamente ma quello va molto bene qui io siccome parli molto degli egizi della preistoria la data ci vogliono dei numeri no sì io intanto metterei magari qualche cosa che richiami gli antichi egizi eh ma non l'ho trovato tra le icone ah non l'hai trovato ma va no no egipcia neanche cercando lingua inglese egipcia per esempio no per dire la verità no oppure cerchi anche uomo preistorico sai potresti anche suddividere in due una con l'uomo preistorico perché il periodo che tu hai menzionato è molto antico e poi il passaggio nell'altra nell'altro clip il passaggio così gli studenti hanno fissano fissano proprio due idee cioè quella della preistoricità dei numeri naturali e quella poi degli egizi no sì sì lo farò lo farò grazie sì ottimo va bene ok alberto sì ciao sono Gabriella Gabriella con l'Antuolo potresti cortesemente guardare anche non so penso che sia arrivato il video anche se manca la narrazione perché la prima volta che l'ho fatto non non mi garbava quindi l'ho consegnato senza poi sicuramente ma per capire se lo svolgimento insomma è beh io direi il video perché poi ho cambiato idea sono partita sempre da Schafer ma ho ho cambiato quello che tu richiami il nodo concettuale ah ok allora vediamo subito il video mi dispiace che manca la presentazione che poi ne approfitto per dire una cosa che è un vezzo personale però lo dico per farvi riflettere io non uso quasi mai il termine video se avete notato io uso il termine filmato sapete per quale motivo perché video uguale televisione uguale spazzatura filmato uguale invece impegno arte e quindi se uno tende verso la spazzatura produce di video se tende verso l'arte produce di filmati insegno questo linguaggio anche i miei studenti li proibisco di usare il termine video video televisione oppure sai social eccetera i video sono quelli spazzatura generale e poi ci sono quindi io li chiamo filmati vediamo il tuo filmato ciao Qui c'è la spiegazione narrata, ovviamente c'è l'immagine storica. Avrei potuto aggiungere anche magari quello di cui parliamo, cioè la creatività e la bellezza rappresenta il nostro futuro, quindi promuoviamola. Però guarda che è un ottimo risultato, intanto come penso abbiano notato tutti quello che manca è proprio la voce. La voce è ciò che rende il filmato personale, però comunque funziona. Voglio solo dirti una cosa che devi ricontrollare la leggibilità dei testi perché dovresti aggiungere un paio di secondi certe volte. Questo è una cosa che devo dire un po' a tutti, cioè nel senso che noi il testo lo conosciamo e quindi lo leggiamo molto più rapidamente di chiunque altro. Allora questo lo dovete considerare, dovete considerare che dopo aver lavorato sul filmato, aver visto, rivisto, letto, riletto i testi, è chiaro che noi proprio discorriamo rapidamente. Quindi dovete sempre aggiungere qualcosina, oppure già che siete in casa fate vedere la proiezione a un familiare, lui sicuramente vi dice se la leggibilità è corretta. Sì, mi piace molto tra l'altro questa cosa qua. Sì, perché poi qui spiego qual è il significato appunto del passaggio. Allora qui vorrei soffermarvi un attimo perché qui abbiamo proprio il cuore del linguaggio iconico. Abbiamo l'architettura di una casa e va bene perché la casa la vedi, quindi è logico che sia così. Ma quando... Eccolo qua. Ma l'architettura sonora... È una metafora... Esatto, che una oralità sia stata rappresentata attraverso un linguaggio iconico è geniale, no? Perché è proprio questo. Il linguaggio iconico vi può proprio portare a questa rappresentazione simbolica. Immaginate che qui ci fosse stata una fotografia, no? Non avrebbe avuto lo stesso significato perché voi avreste avuto un'immagine del mare, della spiaggia, no? E quindi vi sareste soffermati non sull'ambiente sonoro che l'immagine rappresentava, ma sull'ambiente stesso. Infatti, quindi così possiamo cogliere anche le opportunità di apprendimento situato in un architettura. Assolutamente, ma certo, perché altrimenti è troppo situato. Certo, certo. E noi dobbiamo sempre... C'è una questione, adesso qui si aprirebbe un discorso che non voglio assolutamente fare, che richiederebbe un seminario, no? Ma è proprio come si apprendono i concetti. Allora, vi basti questo slogan. L'apprendimento, l'apprendimento concettuale, è un apprendimento che rompe con la realtà, con l'ambiente che ti circonda. Certo. Cioè, se tu usi una palla e questa palla per te è la palla da pallaganestro e tu vuoi studiare la sfera, tu devi smettere di giocare e devi considerare quella palla una sfera. Quindi non si impara niente dall'esperienza. Come diceva Vygotsky, dall'esperienza si imparano i concetti di base, i concetti spontanei, vi chiamava lui, ma l'applicazione dell'intelligenza sulla realtà implica il fatto che la realtà venga studiata in modo indipendente, indipendente, cioè in modo che non sia la tua realtà e dunque tu ti devi staccare dalla realtà per... E qui si aprono dei discorsi incredibili appunto su alcune tendenze pedagogiche completamente sbagliate che tendono a immergere il bambino nella realtà o lo studente nella realtà, eccetera. No, perché il processo è dialettico. Tu devi entrare in un contesto ma ne devi uscire se vuoi apprendere quel contesto lì. Vabbè, questo è un discorso... È quello che dicevamo l'altra volta dell'artista che diventa un grande artista quando rompe con... Sì, esattamente. Sono discorsi interessanti da fare, però adesso il nostro tempo qui su questo argomento si è esaurito. Di niente. Allora, vediamo a noi con l'argomento di oggi. Come avete visto abbiamo un sacco di roba, giusto? Qui le vostre preferenze le avete date, io ne ho tenuto conto. Vediamo se riusciamo, anche seppur rapidamente, ma a occuparci un po' di tutto quanto. Allora, prima di tutto un buonissimo ripiro l'abbiamo fatto. Due, i quaderni di carta, la funzione didattica... Poi facciamo così. Ecco. Allora, i quaderni di carta, la funzione didattica, un metodo di lavoro pedagogico, eccetera, eccetera. Allora, vediamo che cosa abbiamo qui tra le risorse. In modo che io vi possa fare un discorso sui quaderni di carta e come mai uno, come me, impallinato i tecniche digitali e applicazioni di ogni genere, punti molto... Perfetto, se ti interrompo, perché altrimenti me ne dimentico. Io ho cercato di salvare quanti più file di video, ma tutte queste pagine, questi collegamenti rimarranno a meno dei video che immagino che occupino spazio e quindi ad un certo punto verranno eliminati? No, rimane tutto, rimane tutto al prezzo di 15 euro per ogni risorsa. Ok. Se vuoi pagare in euro. Se invece siete delle esperte in cucina, potete pagare in natura bulinaria. Allora, si può fare. Vi do l'indirizzo, voi spedite. Alberto, perdona, ma non è meglio pagare in fiorini? In fiorini? Ah, d'oro dici? Ah, però... Quelli che chiedevano Troisi e Benigno. Sì, quelli lì, esatto. Anche in rubli si potrebbe pagare. Oggi sì, ma... In gas. Pagate in gas e elettricità. Mandatemi delle pile, pannelli solari, le bombole del gas. Sì, certo, rimane tutto qui per... Sicuramente fino a fine ottobre, va bene? Poi dopo devo fare un po' di pulizia. Ok. Dunque, allora, partiamo subito da... Dov'è che l'ho messo? L'ho messo, sì. Ah, qua. Vedete? Allora, qui c'è Facebook. Partiamo dall'inizio. Perché ho pubblicato l'anno scorso, tanto lo faccio tutti gli anni, quindi fra poco riprenderò la stessa cosa. Questo è il benvenuto, il benvenuto che io offro ai miei ragazzi, specialmente in quinta, ma poi l'ho esteso un po' a tutte le classi. Quindi benvenuti in quinta al tuo ultimo anno in un lungo ciclo scolastico che si conclude. Sarà un anno molto... Allora, che cosa succede qua? Allora, io compro per le classi, per tutte le mie classi, compro questi quaderni. Sono dei quaderni piccoli. Sono dei quaderni a righe e sono dei quaderni a quadretti. Quelli a quadretti sono quadretti piccoli, non quelli grossi, chiaramente. Poi prendo anche un evidenziatore. Ci sono questi evidenziatori a matita che sono molto belli rispetto a quelli ad alcol tradizionali. E una birra nera. E poi una copertina per ciascun quaderno. Quindi che cosa faccio? All'inizio dell'anno... Qui avevo la mascherina ovviamente perché era l'anno scorso, quest'anno no. E all'inizio dell'anno, con una giacca, quindi perché è una cerimonia, quindi essendo una cerimonia deve essere... deve avere tutti i chismi della... è storytelling, no? Quindi vuol dire che questa cosa va costruita. Va costruita, gli va dato importanza, deve esserci suspense, deve esserci uno scioglimento, eccetera. Quindi cosa succede? Che i ragazzi sono chiamati uno a uno in ordine alfabetico alla cattedra, io sono in piedi e c'è questa cerimonia di consegna dei due quaderni, quello a righe e quello a quadretti, le due copertine e i due strumenti di... quello di evidenziazione, quello di scrittura. Poi un saluto che, vabbè, avviene in questo modo anziché tenersi la mano come negli anni passati. Allora, perché questo? Allora, prima di tutto perché nella scuola abbiamo l'abitudine di intraprendere tante attività senza dare a queste attività la giusta importanza. Tutto passa, tutto viene frammentato, ci sono tanti insegnanti, tanti progetti, tante cose da fare. Quello che facciamo a scuola, appunto, è una cosa da fare. No, noi non facciamo cose che sono da fare, noi facciamo cose importanti a cui bisogna dare un peso e il peso, appunto, che voglio dare all'utilizzatore dei quaderni è tale per cui merita una cerimonia iniziale, esattamente come poi merita una cerimonia finale che poi vi troverò, perché qui ho poche foto, non ho ancora risistemato un po' di cose, poi vi farò vedere anche la cerimonia di chiusura dell'anno scolastico. Poi, soprattutto, bisogna dare attenzione e importanza all'utilizzo proprio del quaderno, perché il quaderno è uno strumento di lavoro sul quale oggi ci si sofferma raramente e non ha quell'importanza che dovrebbe avere. A mio parere, proprio nell'epoca digitale, i quaderni di carta e la scrittura manuale devono essere notevolmente ripresi in considerazione. Per quale motivo? Adesso veniamo alle indicazioni pedagogiche sull'uso di questi quaderni. Prima di tutto, noi abbiamo un quaderno con la sua copertina. Perché la sua copertina? Perché il messaggio è molto chiaro. Questo strumento deve essere conservato. Deve essere conservato bene, non deve essere sciupato e deve arrivare fino alla fine dell'anno. Naturalmente, un quaderno non basterà, quindi, ecco come vi farò vedere, che poi noi pinzeremo questi quaderni insieme. Notate che questi ragazzi, ho scelto una quinta proprio per mostrarvi che sono ragazzi grandi, questa credo che abbia 19 anni, avesse 18, 19 più o meno, però noi lavoriamo esattamente nello stesso identico modo con cui operiamo con i bambini di scuola elementare, perché l'importanza di quello che facciamo e le ragioni pedagogiche di quello che facciamo non sono affatto differenti. Anzi, in età adulta devono essere realmente recuperati. Quindi la copertina è importante, perché la copertina, come vi dicevo prima, trasmette questo messaggio di cura del quaderno, la cura. Poi la cura c'è anche per un fatto che questi quaderni li acquisto io, non sono un omaggio della scuola, questo va detto agli studenti. Cioè deve essere chiaro che il docente si impegna a spendere il suo, niente di straordinario, perché come vi dicevo li compro da un grossista avendo la partita IVA e quindi li pago molto poco, però comunque è un impegno, li deve andare a prendere, li devi cercare, li devi portare, dunque non è qualche cosa di dovuto che per esempio la scuola potrebbe avere 4.000 quaderni di regalo agli studenti, no. Questo è proprio un omaggio, un impegno dell'insegnante e questo è importante non perché è l'insegnante che lo fa, ma perché attribuisce importanza all'omaggio e quindi questo significa stimolare la cura da parte dello studente. Se non c'è cura, non c'è niente, non c'è nessun tipo di attività didattica. Poi il quaderno piccolo, perché il quaderno piccolo? Tutti gli studenti oggigiorno utilizzano dei grossi quaderni con anelli all'interno delle quali ci sono tutte le discipline. Questi anelli si aprono, i fogli vengono sostituiti, rimessi, non rimessi, su fogli molto grandi, eccetera. I quaderni con anelli non vanno bene, non vanno bene per una serie di motivi che adesso ve li elenco alla rinfusa, quindi non in ordine di importanza. Allora, non vanno bene perché l'anello impedisce una corretta grafia. Provate a scrivere su un quaderno ad anelli e io vi sfido a trovare la posizione corretta del polso per scrivere correttamente in una grafia accettabile con questo anello in mezzo che impedisce, che tocca l'osso del polso e ti impedisce di scrivere. Poi il quaderno grande è meno controllabile da parte dello studente rispetto al quaderno piccolo. Il quaderno grande, più grande il foglio, più grande la pagina, questo lo sanno anche tutti quelli che insegnano discipline artistiche, è più complicato riempirla, è più complicato trovare gli spazi giusti, le forme giuste. Poi un altro motivo è che con il quaderno piccolo io riempio lo zaino, un piccolo zainetto, con i quaderni di tre classi. Con un quaderno grande ad anelli io non porto a casa neanche i quaderni di, forse di una classe, ma neanche. E questo che cosa significa? Significa che lo studente metterà la sua cura nel tenere il quaderno e l'insegnante ricambierà con la cura verso lo studente portando questi quaderni a casa, leggendo, corrigendo, segnando, annotando, dando delle indicazioni, facendo i complimenti, invitando l'allievo a migliorare sotto certi aspetti, eccetera. Abbiamo quindi una forma continua di controllo da parte degli insegnanti sui quaderni degli studenti che specialmente nei primi tempi porterà a casa almeno settimanalmente. Poi i tempi potranno essere più distesi. All'inizio questi quaderni dovranno essere portati spesso a casa dall'insegnante perché bisogna generare un'abitudine che non esiste più, che è l'abitudine che consiste nel fatto che lo studente consegna un prodotto all'insegnante e l'insegnante gli restituisce un prodotto che è un prodotto fisico, materiale, all'interno del quale c'è tutto, cioè non un foglio di una verifica in classe che poi viene riconsegnata e poi archiviata a scuola. Tutto questo serve anche per considerare che il quaderno è il centro dell'attività ed essendo il centro dell'attività, cioè di tutte le attività svolte con una determinata disciplina, lo studente lo deve avere sempre dietro ed essendo piccolo è facile averlo sempre con sé. Il quaderno piccolo, come tutte le cose piccole, come un piccolo gattino, un piccolo cagnolino, un pulcino, eccetera, suscita affetto, suscita affettività maggiore rispetto a un oggetto grande e dunque l'oggetto piccolo che appare anche più maneggevole, che appare anche più personale, che ti porti sempre appresso, che puoi sfogliare rapidamente attraverso quel gesto di prendere le pagine e scorrerele rapidamente come un libro, cosa che non puoi fare con un quaderno grande perché ha una copertina di cartone e delle pagine attaccate con questi anelli, tutto questo fa sì che si inneschi un meccanismo affettivo. Ora, siccome la relazione di insegnamento è innanzitutto una relazione affettiva, cioè se tu non sei in grado di costruire una relazione affettiva con i tuoi studenti, traduzione, se tu non vuoi bene ai tuoi studenti, i tuoi studenti non vogliono bene a te, non c'è una relazione di apprendimento, c'è una relazione meccanica dove si studiano delle conoscenze, ma non c'è un vero aggancio, un vero transfert di lavoro tra lo studente e l'insegnante, ecco che uno dei tuoi compiti è quello di fare in modo di suscitare questa corrente affettiva e la cerimonia, il quaderno piccolo e tutte queste caratteristiche, eccetera, eccetera, determinano fin dal primo giorno questa corrente. E qui, tra l'altro, questa è ancora più importante, se voi prendete una classe nuova come in questo caso, chiaramente. Poi, perché la bironera? Perché è obbligatorio, indicazione prescrittiva, è obbligatorio scrivere con la bironera su questo quaderno. Poi i titoli, i disegni, che ne so, certe annotazioni, eccetera, potranno essere intraprese con qualsiasi tipo di colore, con gli strumenti che si preferisce, ma il contenuto fondamentale, quello importante, quello che poi bisogna leggere, quello che impiega, impegna l'intelligenza dello studente, beh, questo deve essere in bironera. Perché in bironera? Semplice. Perché il contrasto nero-bianco è il contrasto più alto che ci sia. Quindi avere un alto contrasto significa leggere meglio, effettuare meno errori, avere un controllo maggiore sulla pagina, avere un controllo cognitivo più importante, perché c'è una chiarezza in quello che fai. E poi, ultimo, ma non ultimo, se notate che razzo di occhiali, ho io, cioè devo portarmi a casa 50 quaderni scritti in blu, in chiaro, in verde, in cose eccetera, ragazzi, non so, a quest'ora non sarei neanche qui, non vi vedrei, sarei cieco, non so in che condizione sarei. Quindi, anche per me, è importante poter rapidamente dare un'occhiata a questi quaderni senza sforzare del mio nervo ottico già ampiamente messo alla prova. Ok? Questa è la ragione del quaderno. E tutte le attività, ma proprio tutte le attività, si svolgono sul quaderno. Sempre. Anche le verifiche, nel caso in cui... Allora, a parte la verifiche, magari, che dobbiamo fare per gli esami di Stato, per cui danno i fogli, i timbrati, quindi è giusto, no? Riproporre gli stessi strumenti. Però, normalmente, anche le verifiche che svolgiamo sono fatte sul quaderno. Intanto perché sul quaderno ci sono tutti i loro appunti. E quindi è giusto che anche durante una verifica loro possano accedere ai loro appunti e far funzionare il loro cervello. Perché lo scopo, e qui, vabbè, si aprirebbe un altro capitolo, ma che non possiamo affrontare, lo scopo dell'insegnante non è quello di controllare quello che lo studente fa e assegnare dei voti, ma è quello di spingere il più avanti possibile l'apprendimento. Dunque, anche la verifica può essere, anzi, per me lo è, è uno strumento di apprendimento. Ma qui dovremmo aprire proprio il capitolo sulle verifiche, che non c'entra niente con questo corso. Dunque, sul quaderno loro svolgono tutte le attività, ma proprio tutte. Questo permette una cosa straordinaria. Ci permette di avere il controllo del processo di apprendimento, cioè dell'evoluzione dell'evoluzione dei ragazzi dell'evoluzione dei ragazzi in nel loro apprendimento grazie al fa, cioè, io posso vedere questa evoluzione, cioè, sono dentro il processo di apprendimento perché? Perché il quaderno è il testimone di tutto quello che si fa e non utilizziamo quaderni digitali se non quando vi ho mostrato quei modelli per i quaderni operativi, ma lì mi servono ovviamente per poter ragionare, svolgere determinate operazioni comuni a tutti, è un'altra tipologia, no? Quindi tutto avviene all'interno. e dunque io ho un chiaro quadro del processo cognitivo di ciascuno mio studente. Per esempio, ve ne mostro uno particolarmente significativo, questo è, era il quaderno di uno studente in quarta, quindi di 17 anni, cioè questo è il modo con cui scriveva e trattava il suo quaderno, un ragazzo con delle problematiche importanti. Questo è un'altra pagina del suo stesso quaderno. Bene, quindi siamo in una situazione estremamente grave, ma non perché diciamo non è scritto bene, non è questa la questione, ma intanto la bellezza significa anche ordine, ordine mentale, capacità logica, eccetera. Ma il problema è che questo disordine significa proprio un disordine logico, un disordine, un disordine mentale che deve, in qualche modo, deve essere, scusate c'è qualcuno in sala di aspetto, mettiamo tutti e voilà. Questo invece è il quaderno dello stesso studente quattro mesi dopo. Cioè, non so se mi spiego, prima e dopo, prima della cura e dopo la cura. Ma quale tipo di cura? Ma niente più di quello che vi ho detto prima, cioè consegnare il quaderno, ritirarlo, far sentire che esiste una continuità da parte del lavoro dell'insegnante e quindi che lui è importante perché io voglio veramente che raggiunga degli obiettivi e questi obiettivi siano valutati a tutti gli effetti perché poi anche un'altra cosa importante è che noi daremo delle valutazioni proprio sul quaderno, delle valutazioni che a tutti gli effetti rientrano nelle valutazioni ordinarie. Quindi, vedete, prima della cura e dopo la cura. Interessante, no? Questo è ancora lui? Cioè, come dal giorno alla notte senza impiegare nessun tipo di strumento compensativo, non compensativo, eccetera, eccetera, solo una questione di cura, attenzione, affettività, presenza dell'insegnante e regolarità del rapporto con lo studente. Adesso qui ho aperto un file però che ha non so come mai 10.000 duplicati della stessa cosa, quindi ne vediamo un altro. Ecco. Qui è il il i quaderni poi a mano a mano vedete ci sono gli appunti. Questi io scrivo sempre in matita le mie considerazioni. Intanto perché non voglio sovrappormi alla scrittura dello studente, il quaderno è loro e io non lo voglio sciupare, se loro desiderano possono cancellare. Tanto quello che io scrivo poi serve per così a loro come indicazione per cambiare, mettere a posto due cose, eccetera. Questi sono degli appunti, c'è chi prende appunti in questo modo, chi in questo, però chi in quest'altro. A me piace sempre però che queste posizioni si scambino, vale a dire, chi utilizza sempre delle freccette, loro le chiamano mappe ma non sono mappe, sono solo frasi con delle freccette che hanno avuto l'abitudine di chiamare mappe, quindi chi usa delle frasi con delle freccette lo invito invece a scrivere in modo narrativo e viceversa, chi scrive in modo narrativo lo invito invece a prendere appunti in modo più frammentato. Però io do delle indicazioni su come gli appunti vanno presi, ma non solo, quando siamo a lezione ci occupiamo di un tema, ecco che in questo tema, durante questo tema io chiedo, avete preso appunti su questo punto, Speranza versus Angoscia, che cosa avete scritto, cosa hai scritto tu, cosa hai scritto tu, no, ma guardate che forse manca questa parte, non vi rendete conto che, cioè vanno seguiti, perché questi che sono poi gli appunti presi durante le lezioni in classe che sono sempre, che hanno sempre anche un contenuto di discussione, elaborazione collettiva, di idee anche che vengono fuori, ecco, e qui poi vedete ci sono, le ragazze poi soprattutto le ragazze piace colorare, piace, i maschi sono più, cioè sono meno, più asetti, no, come dire, hanno meno colore, no, meno espressività. Ecco, quindi il quaderno poi a mano a mano si riempie di tutte queste cose, tra cui anche i lavori come quelli che abbiamo visto sulla striscia, in questo caso questi lavoretti sono svolti in gruppo. Vedete che c'è sempre il quaderno, naturalmente, lavorano sempre sul quaderno e poi questo, ma sempre sul quaderno, cioè non diamo un compito a parte perché questa è una striscia, un compito un po' originale, no, deve essere tutto all'interno per poter vedere, ecco, questo è un fatto invece su Foglia Buchi perché aveva finito il quaderno, quindi provvisoriamente aveva utilizzato questo, poi glieli faccio incollare, quindi loro tagliano qua, tagliano il coso e poi incollano questa parte sul loro quaderno. e ecco, queste sono alcune immagini del lavoro, però è proprio importante ecco qui vedete magari anche la varietà con cui questi quaderni sono trattati, scritture grosse, in stampatello, più in corsivo, perché qui c'è una storia e purtroppo è una cattiva storia ed è una cattiva storia che viene dalla scuola elementare, una volta nella scuola elementare si curava molto la scrittura, la scrittura in corsivo che oggi è completamente persa, io raramente ho nel insegno in istituto professionale, raramente ho degli studenti che sanno scrivere in corsivo, quindi io riprendo anche lo studio del corsivo proprio sapete le A, le B dentro le cose eccetera, invece io ho insegnato anche elementari dieci anni quindi so bene le cose come sono cambiate, c'è una totale sottovalutazione nell'utilizzo del corsivo del quaderno e della grafia, si fanno pochi esercizi grafici ma sviluppare pochi esercizi grafici significa avere poca attenzione alla bellezza, ma la bellezza è una base dello sviluppo cognitivo è ordine è poter rintracciare leggere e poter aspirare anche a vivere in un mondo migliore ovviamente perché se tu raggiungi una capacità espositiva ecco qui ognuno ha la sua scrittura va bene però questa è già una scrittura leggibile io insisto molto molto su questo svolgiamo degli esercizi proprio i classici esercizi che facevo con i bambini della scuola elementare vediamo cosa trovo ancora qui abbiamo un lavoro ecco qui abbiamo un compito completo per esempio su Giuseppe Carducci svolto all'interno del quaderno vedete tutto quanto così all'interno del quaderno bello ordinato pulito ora io però non dico ai miei studenti che devono questo abbiamo un altro quaderno è venuto blu perché diciamo non ha è la fotocamera del del cellulare che ha distorto il colore ecco questo abbiamo un altro quaderno con vedete vari credo che sia quasi completo la cosa del genere e vi dicevo che ma qui è interessante perché poi a volte loro aggiungono gli indici una cosa che fa innervosire i miei studenti è che noi parliamo di Salinger magari quindi studiamo delle cose prendiamo degli appunti eccetera poi andiamo avanti poi a un certo punto due mesi dopo ritorniamo su Salinger perché si fanno dei collegamenti si riprendono delle cose magari si fa una nuova lettura non lo so e allora dà un fastidio incredibile perché diciamo Salinger non è più allo stesso punto hanno un Salinger le prime pagine e poi ne hanno uno 30 pagine dopo per dire di compiti eccetera allora che cosa tendono a fare loro tendono a fare il lavoro di brutta sulle brutte e poi a ricopiarlo in bella sul quaderno io gli dico sempre che questo non è da fare perché il quaderno deve trasmettere proprio il senso del lavoro che hanno svolto durante l'anno quindi anche se ci sono dei pasticci delle cancellazioni se Salinger non è all'inizio cioè non è tutto insieme perché guardate che quando sono in quinta specialmente le ragazze che tengono in particolare all'ordine così sono anche capaci di ricopiare tutto un quaderno cioè qual è di ricopiare magari anche tre o quattro quaderni ricopiabili tutti per presentarli alla maturità con l'ordine che non è quello scolastico ma è l'ordine che loro si sono organizzati allora gli dico tenete dei bigliettini questi come si chiamano questi cosi post-it sì post-it forse sì sono quelli piccolini e con questo vi organizzate il vostro indice perché? perché da un punto di vista pedagogico quello che a me interessa non è tanto che il quaderno sia effettivamente in ordine bello cosa che mi interessa ma mi interessa per insegnare qualche cosa a loro una loro acquisizione quello che a me interessa invece è proprio l'asse temporale su cui il quaderno si costruisce altrimenti non ho in mano lo sviluppo proprio i cambiamenti di scrittura di posizione di intelligenza e quindi insisto molto sul fatto che il quaderno sia un prodotto e anche se siamo in quinta proprio insisto sul fatto che non ricoprino niente ma portino il prodotto del loro lavoro intanto perché la commissione se tu spieghi solo quello che hai fatto non ci crede perché noi svolgiamo un lavoro enorme voi pensate che durante un anno scolastico di una classe che io prendo anche solo in quinta noi possiamo svolgere studiare una ventina di autori e leggere cinque romanzi miei studenti che ripeto di studio professionale quindi non sono abituati a lettura alcuni non hanno mai letto nulla in vita loro però leggono cinque romanzi integralmente ma romanzi di grande letteratura ovviamente commentati discussi in classe analizzati eccetera diciamo un lavoro straordinario e questo lavoro bisogna che sia documentato anche per la commissione di maturità che si renda conto di cosa c'è alle spalle e che quindi non si riduca all'esame alla solita interrogazioncina su chi era quest'autore cosa ha fatto e cosa ha scritto ma si prendono i libri testi quaderni in mano e si ragioni con gli studenti perché questi studenti sono in grado perfettamente di ragionare se si fa un esame come deve essere fatto ovviamente allora questo è quanto sui quaderni però abbiamo anche un filmatino che non so dove l'ho messo ah eccolo qua quaderni pensi che hanno quaderni pensati move quindi ce l'ho anche io qui perché un quaderno a righe ed uno a quadretti ah scusa giusto quello a righe per italiano e quello a quadretti per storia ah ok perché per storia alle volte abbiamo date tabelle dati economici schemi comparazioni eccetera ed no in realtà potrebbe andare bene anche quello a righe però già che ci sono gli insegni a usare anche quello a quadretti ok avrei anche una domanda quando hai parlato delle verifiche hai detto a parte le simulazioni della prova d'esame tutto il resto ha fatto lì ma come si fa poi se che le archiviamo facciamo tutte stesse no io non archivio niente tutto quello che facciamo in classe lo do a loro non ho mai ok non ho mai archiviato nulla perché è un loro prodotto io glielo restituisco e ma non ho mai consegnato un compito in un archivio scolastico in 42 anni di insegnamento ok quindi si può iniziare ok sì certo assolutamente ecco vedete questa cosa volevo farvi vedere non vi ho detto che questo è un quaderno finale quindi è un filmatino fatto a fine maggio più o meno così vedete che poi non è un quaderno ma qui sono tre o quattro quaderni messi insieme e notate che a un certo punto ecco vedete qui ci sono anche sul quaderno ci sono anche questi queste cose questi si chiamano sketch note io insegno ai miei studenti a creare degli sketch note cioè sono degli appunti visivi inizialmente li facciamo insieme e in quel caso io uso l'iPad e uso delle applicazioni come iPaper oppure Procreate e disegno alla lavagna così loro un po' ricopiano un po' aggiungono delle cose fino a che poi li sanno realizzare anche per conto loro ah sono applicazioni sempre per la disegno no 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 io ho fatto fare perché noi abbiamo fatto delle gite online e mentre guardavo la gita io appunto gli ho fatto fare degli sketch note prendendo appunti su quello che vedevano e fare poi una linea del tempo grafica sulle due giornate di gita però io avevo trovato un pdf cartaceo dove c'erano degli esempi però adesso no no qui è proprio sull'applicazione di disegno si disegna con l'Apple Pencil eccetera questo per esempio è una rappresa uno sketch note su il primo libro che normalmente stiamo parlando di una classe quinta poi nelle altre classi leggiamo altre cose ovviamente e il primo libro che do da leggere sempre in una quinta che è Uomini e topi di Steinbeck e questo è lo sketch note che rappresenta alcune delle tematiche all'interno di questo libro vedete questo è invece uno sketch note su Spleen ma quello dello sketch note è un tema che non possiamo affrontare ovviamente non possiamo parlare di tutto in questo corso quindi lo registrate e lo mettete da parte poi qui che cosa abbiamo qui eccolo qua ecco questo per esempio è uno sketch note realizzato durante ah sono tutti realizzati in classe naturalmente perché perché sono gli sketch note sono il frutto di una discussione sul testo quindi noi abbiamo letto il libro e quando si è letto il romanzo integralmente poi si arriva in classe per discutere la lettura adesso io insegno italiano voi qui ci sono insegnanti che affrontano diverse discipline eccetera quindi non affronto questo argomento ma ho tutto ho sviluppato nel corso degli anni tutta una metodologia particolare sullo studio di un libro di un romanzo e sui compiti che su questo romanzo devono essere svolti in modo che si arrivi a una reale discussione in classe come se fossimo all'interno di un circolo letterario e quindi il riassunto della discussione in primo luogo è dato attraverso uno sketch note e quindi questo è un anno terribile di John Fante e qui abbiamo la rappresentazione che a mano a mano si parte da qua dal titolo poi dalle prime cose poi via via poi a mano a mano che vengono tirati fuori gli argomenti si rappresentano e si dà una piccola cosa vi dico subito che i miei studenti quando leggono un romanzo questo lo dico così per farvi capire il metodo in parte il metodo che adotto è che i miei studenti quando leggono un romanzo ricevono solo questa indicazione loro devono leggere il libro non devono scrivere nessuna trama non devono scrivere nulla su questo libro perché è pieno internet quindi non mi interessa che si vada in giro a prendere però quando leggono un libro loro devono tenere la matita in mano se il libro è di carta perché alcune volte per esempio ci sono dei testi solo digitali quello di Paul Bowes per esempio non esiste di carta è solo digitale e se no con la matita in mano loro sottolineano tutto quello che in questo libro suscita un loro interesse quindi perché non so è straordinario perché non si è capito niente perché è confusionario perché è proprio difficile perché è bello perché è una cosa a cui non hanno pensato quale che sia il motivo loro sottolineano poi che cosa fanno? sul quaderno questo quaderno loro ricopiano dieci di queste citazioni dieci, dodici otto, dieci, due a seconda dell'ampiezza del libro quindi devono scegliere tra tutto quello che hanno sottolineato un numero stabilito per tutti di citazioni le devono ricopiare sul quaderno se fossero troppo lunghe le ricopiano solo una parte poi i pontini di sospensione e poi devono scrivere perché l'hanno scelto e che cosa sta succedendo in questo modo che cosa e basta questo è l'unico compito che devono fare quando leggono un libro poi dopodiché loro ricevono un voto che parte dal sette in su per aver letto il romanzo perché è un lavoro è un lavoro che oltretutto i miei studenti non sono abituati a fare il lavoro va retribuito siamo in una società capitalista dove il lavoro è sfruttato però per fortuna è retribuito quindi noi seguiamo questa logica il lavoro va retribuito quindi hai letto un romanzo ti sei impegnato dei pomeriggi per leggerlo e quindi hai un voto positivo di default poi hai fatto il compito e un altro voto perché è un altro lavoro che hai fatto indipendentemente al fatto che il compito sia pieno di oridotografie o di altre cose non importa dobbiamo separare le questioni poi arriviamo in classe con questo quaderno e dove ci sono tutti come si chiama dove ci sono questi lavori su questo romanzo e quindi ne possiamo discutere ecco che il frutto della discussione non schiacciano ma come avviene la discussione beh avviene sulla base delle citazioni perché qualcuno non so io posso porre una domanda ma Dominique Molise era veramente aveva veramente un talento secondo voi sì o no il suo braccio era veramente a baseball lui sapeva giocare veramente sì o no e quindi bisogna dare delle risposte queste risposte si danno sfogliando il libro trovando le citazioni gli argomenti valutando che sì gli amici credevano oppure gli amici non credevano che il padre come la pensava quindi era una sua convinzione era matto lui oppure veramente avrebbe avuto il talento di un grande giocatore di baseball e così via e dunque abbiamo le nostre citazioni questo consente di fare una serie di cose consente che il libro sia letto effettivamente che non ci siano scopiazzature su internet perché il lavoro è completamente originale e individuale e poi viene valorizzato ogni studente perché la discussione la discussione naturalmente durante la discussione ci sono delle parole di apprezzamento per quello che dicono ci sono delle valutazioni quindi si daranno dei voti e poi si daranno anche dei voti su un determinato contenuto quindi su questo lavoro per esempio io ho 4 5 6 voti per ogni studente ma la valutazione è un argomento che non possiamo affrontare io chiudo un trimestre un quadrimestre con posso avere 25 30 35 voti a studente e quindi ho un'ampia gamma di ho un quadro molto ben preciso diciamo per svolgere una valutazione come si deve ecco questi sono altri scheccio e così no va bene ma tanto avete il materiale allegato questo non so cos'è ah sì un altro esempio ecco vedete no molto infantile questi sono ragazzi 18-19 anni allora uno si chiede come mai nella scuola italiana si arriva a 18-19 anni senza saper così che poi questo se la cava perché non è mica male ma guardate che non tutti sanno neanche disegnare magari dei piccoli cosmi cioè è un fatto incredibile io penso nel nostro paese che non ci sia una vera e propria educazione artistica e voi ed educazione perché nel nostro paese noi abbiamo sempre l'arte alta e poi la cultura bassa invece non capiamo che l'arte è ovunque che noi possiamo metterci della creatività e della bellezza in qualsiasi cosa per cui se i colori fossero più appropriati più cose eccetera questo sarebbe ancora più bello va già bene è già un bel risultato ma ecco per dirvi però che siamo in questa situazione ok fine dei quaderni dobbiamo passare ad altro avete ah no consegna di un quaderno di carta eccolo qua come si fa a passare questi quaderni in modo digitale perché qualcuno prima ha fatto la domanda ma come fai poi a a tenere tutto sotto beh si apre il classroom un classroom come con voi e poi dopodiché si utilizza un'applicazione che si chiama Adobe Scan che è gratuita con questa applicazione qui è spiegato un tutorial di 5 minuti che vi spiega esattamente come fare non ve lo sto neanche a spiegare io perché è talmente spiegato bene qua che vedete voi avete eccolo qua cambiate il nome avete non la scansione di una pagina ma proprio un documento pdf con tutto il lavoro e quindi questo lavoro poi viene consegnato viene consegnato come pdf allegato a un compito e quindi io ho rapidamente anche sotto mano tutti vedete qua 23 compiti su 26 per esempio ecco che io ho qua come avete fatto voi ho qua i quaderni anche in formato pdf quindi non solo di carta ma anche in formato pdf questo a me è utile perché il quaderno lo devo consegnare poi allo studente perché ci deve lavorare quindi lo tengo un pomeriggio ma questo mi rimane questo mi rimane e mi rimane su tutti i compiti e quindi io ho sempre un controllo continuo allora domande problemi dubbi incertezze sulla questione le cahier le cahier ha un papier vuol dire i quaderni di carta no tutto abbastanza chiaro io avevo una domanda scusami nel senso che mentre parlavi stavo prendendo appunti e ragionando sulla mi piacerebbe molto attivare questo tipo di almeno in una paio delle mie classi in una terza e in una quinta in una quarta e in una quinta però in una delle quinte io ho un ragazzo gravemente disgrafico fortissimamente disgrafico cioè praticamente riusci neanche a tenere in mano la penna che cosa si può fare per rendere inclusiva però mi piacerebbe provare questa io guarda io un quaderno lo do a tutti e poi ognuno tiene in mano la penna come può ok va bene però tutti ce l'hanno se poi proprio deve lavorare con la tastiera va bene lavorerà con la tastiera stampa ritaglia e incolla sul quaderno il quaderno resta comunque il raccoglitore ho avuto degli studenti da cui anche quest'anno che proprio non riusciva assolutamente anche se anche se io sono convinto che col tempo sarebbe riuscito a migliorare ma questa cattivissima abitudine di dire ah non sa fare questo allora lo mettiamo in una tastiera cattiva abitudine che parte praticamente dalla seconda o dalla terza elementare gli ha aumentato un problema che secondo me non era affatto un problema così grave ma che a quel punto a 19 anni è diventato un problema mi sono mortabile o comunque non sì sì sono d'accordo anche perché in questo caso nel mio caso è anche un po' diciamo un po' un'arma che lui usa ma certo perché guarda è alquanto positivo no e quindi questa cosa diventa no ma io non faccio perché io non cioè certo esatto una persona che sì sì è positivo beh Freud parlava del tornaconto secondario del sintomo quindi il sintomo è un problema perché ti dà fastidio però tu hai anche un tornaconto secondario del sintomo e quindi dopo anni e anni di esperienze scolastiche i ragazzi imparano che la loro condizione speciale gli permette di lavorare meno di fare cioè eccetera invece noi no noi partiamo dal fatto che tutti hanno il loro quaderno e lo usano poi di fronte a difficoltà grosse ovviamente bisogna adeguarsi chiaramente però va bene cosa dite to talk sì dunque adesso che cosa abbiamo in programma punto due l'abbiamo fatto tre creare una foto story proviamo due modalità una con un modello che ho preparato di keynote qui allegato che potete utilizzare in classe eccetera e l'altra tramite una pagina web allora qui avete una foto story allora prima di tutto che cos'è una foto story che cos'è una foto story secondo voi allora vediamo se trovo un tanto ecco una foto story che tra l'altro mi sono dimenticato di allegarvi ma la potete scaricare qua la potete scaricare anche da ebook store di apple però vi rimando qui perché qui ci sono anche la scritta non volevo dire proprio così allora forse si scrive il titolo più facile eccolo qua questo e metto subito il link link il link qui link zack zack allora questo lo riporto io salvo questa è una foto story che io ho creato apposta per poter spiegare anche che cosa sono le foto story eccolo qua questo lo riporto tra l'altro l'ho creata apposta in modo tale che fosse proprio una storia casuale la potete quindi scaricare tranquillamente il costo è zero nella mia grande magnanimità e ve la mostro perché così avete un'idea proprio di che cosa si tratta quindi abbiamo una copertina d'accordo ecco cos'è una foto story poi cerchiamo di grandire un po' ecco vediamo cos'è una foto story partiamo dalla copertina la copertina ok poi cosa abbiamo abbiamo la presentazione dell'autore d'accordo poi come leggere questi book qui avete due indicazioni come leggere ma penso che sappiate quali sono gli book poi abbiamo un titolo sfondo nero allora intanto perché sfondo nero perché molto spesso nella fotografia lo sfondo nero fa risaltare di più l'immagine fotografica però anche il bianco può andare bene dipende un po' anche dal messaggio che volete trasmettere qui abbiamo una cartina con l'illustrazione una spiegazione sui protagonisti di questa storia che riguarda il labrador è una storia centrata su due cani labrador quindi abbiamo un'introduzione con un'immagine di sfondo e poi inizia proprio la storia ciao questa sono io sono una femmina della razza dei labrador qui se passate con il mouse ecco che cancellando con il mouse vabbè adesso qui viene fuori il labrador è un giochetto niente di che adesso noi non facciamo questi giochetti ma quello che ci interessa è vedere come è organizzata la foto story quindi qui ancora bisogna passare col dito perché è l'ideale per l'iPad con il dito voi passate con il dito e togliete la nebbia che impedisce di vedere l'immagine poi avete qui avete un'immagine fotografica con la didascalia in questo caso la didascalia che cos'è? è il racconto di uno di questi due cani queste sono fotografie realizzate casualmente cioè un giorno ero da qualche parte in questo caso era a pantelleria e verso sera sono arrivati questi due cani di una padrona di una proprietaria ovviamente che hanno iniziato a giocare non c'era nessuno io avevo la mia attrezzatura fotografica un grosso teleobiettivo da 800 mm che mi ha consentito di fotografarli a una certa distanza senza disturbarli cioè senza che venissero da me a giocare e poi sulla base di queste foto ma dopo ho creato la storia quindi è interessante potete leggere la vede perciò a volte è meglio prendere due direzioni opposte questa è una foto casuale molto bella perché diciamo un animale va in una direzione l'altro labrador nell'altra in quella opposta quindi ho immaginato un conflitto tra i due che si basa su alcune caratteristiche vedete come sono disposte poi avete anche la possibilità di scorrere per esempio una galleria di immagini in questo caso poi ogni immagine ha la sua idascalia che non è altro che il racconto come se questo racconto fosse portato avanti da una delle due ecco avete anche questa disposizione di immagini quindi una fotostory si basa naturalmente sulla fotografia sulla fotografia ed è interessante poter raccogliere delle fotografie raccogliere delle fotografie casuali quindi cominciate voi fate una gita andate da qualche parte raccogliete proprio a caso delle fotografie solo ed esclusivamente basandovi su due criteri il primo l'interesse che suscita una determinata cosa non lo so siamo in autunno fotografate il riccio di una castagna più ricci di castagna vi interessa questo fotografatevi secondo la bellezza di quello che fotografate un dettaglio particolare un'inquadratura interessante delle luci ecco concentratevi solo su questo non sul fatto di documentare qualche cosa toglietevi dalla testa l'idea di dover raccontare una storia oppure di documentare un'attività perché non arriverete a capo di nulla se farete così dovete proprio lasciarvi andare al vostro istinto l'istinto su questi due aspetti cioè cosa vi colpisce cosa vi attira vi attira tac fotografatelo e poi la bellezza di quello che osservate e dopo radunate tutto e poi vabbè io insegno tecniche di racconto ma non è che posso insegnervela adesso adesso vi insegno la struttura così di composizione e poi cercate di tirare fuori una storia se voi leggete questo lo riporto io avete sicuramente delle basi vedete qui inizia il litigio il litigio quello che vi posso dire è che dovete costruire un conflitto all'interno della storia un conflitto che poi si può risolvere in qualche modo non è semplice però provate questa è una foto pazzesca non tanto la qualità della foto perché avete lei è un po' sfocata perché sono foto rapide fatte a distanza ma perché io non ho mai visto due cani portare insieme lo stesso asse e quindi da quell'immagine in cui si separavano dal gioco che facevano e a questa in cui portavano insieme lo stesso asse è nata questa storia di conflitto tra questi due cani che giocano insieme e poi risolvono il loro problema vedete come fanno poi qui litigano perché qualcuno si è appropriato noi due si è appropriato di quest'asse sembra che litigano stavano giocando ma non importa nella storia fotografica diventa un litigio anche perché è così che l'ho descritto poi attraverso il racconto di uno dei due finché poi si parlano quindi si mettono d'accordo e poi sono lì con la loro padrona e questo era il luogo dove io ho incontrato questi due cani e questa è la padrona dei due cani una ragazza che ho incontrato lì poi abbiamo fatto due chiacchiere e gli ho mandato questo questo lavoro questo è un ebook dunque un ebook fotografico che racconta questa storia quindi non è una raccolta di fotografie è proprio una storia basata su fotografie e come vi dicevo questa storia si basa su fotografie casuali adesso come fate voi a raccontare una storia analoga senza avere una struttura un modello a disposizione niente problemi nella mia ormai arcinote grandissima magnanimità ecco voi che avete a disposizione questo modello per foto ops qua vedete modello per foto storytelling album key questo è keynote ma la buona notizia è che adesso io prima di incominciare questo il corso qui io vi posso caricare anche vi posso caricare anche la versione in powerpoint va bene siete contenti così avete tutto anche chi grazie eh grazie grazie non basta mica qua grazie ragazzi lo so grazie siamo contentissimi ecco dunque dunque adesso ve la carico subito ok dove c'è eccolo qua keynote photo storytelling modello powerpoint eccolo qua modello powerpoint quindi avete adesso avete anche il modello insomma powerpoint con una differenza tra i due che il modello di keynote è un vero modello cioè nel senso che come adesso vi mostro no questo è powerpoint va bene apriamo anche quello per keynote allora guardate la differenza tra i due questo è il modello questo in primo piano è il modello per keynote il modello per keynote funziona come i modelli che abbiamo visto per keynote in un paio di incontri fa se vi ricordate cioè dal tasto più qui io posso aggiungere le fotografie che sono veramente dei modelli ok però nel passaggio da keynote a powerpoint cioè trasformando questo in esporta come powerpoint no dall'iPad la stessa identica operazione che cosa succede che il il powerpoint perde l'allineamento di tutti le foto modello quindi queste non sono più da utilizzare non potete più fare tap sul tasto più di powerpoint però li ho messi tutti qua all'interno e quindi voi che cosa farete per utilizzare il powerpoint per utilizzare il powerpoint ne farete una copia prima di tutto una copia che vi rimanga intatta e poi da quella copia farete farete un altro duplicato che poi distribuite agli allievi per un determinato lavoro lo farete voi cioè ogni volta farete il duplicato nel caso in cui non vi serva questa foto voi la toglierete chiaramente ma adesso vi spiego come fare allora vediamo come è organizzato questo modello uso il mac ma tanto non c'è niente da dire è uguale perché sull'iPad avete anche qui la finestra di navigazione e poi avete il tasto più solo che questo tasto più è posto qua in basso se ve lo ricordate da iPad è posto qua in basso quindi allora prima di tutto 15% no 100% no va bene 75% in quanto no 15% così ok allora adatta a dispositivo perfetto ecco cosa cercavo questo adatta a diapositiva va bene qui scriverete i vostri riferimenti agli studenti citate la fonte di dove sono prese anche le foto e tutto il resto allora titolo qui sono tutti elementi che potete modificare o eliminare e qui naturalmente inserite il titolo nome e cognome autore eccetera poi qui è bene aggiungere l'autore perché cosa state creando state creando un racconto un racconto fotografico quindi deve essere realizzato bene nel senso che c'è un autore dietro questo racconto e deve essere chiaro il fatto che ci sia un autore poi vediamo che cosa si può aggiungere per esempio la presentazione qui avete già un modello di presentazione già a posto non dovete cambiare niente perché i caratteri sono studiati la disposizione il bianco intorno eccetera affinché sia leggibile quindi fate in modo che la presentazione stia qui dentro tanto è un racconto fotografico non c'è niente da raccontare testualmente quindi e qui dovete solo presentare quello che avete fatto quindi ho incontrato i due labrador casualmente e quindi abbiamo operato in questo modo eccetera eccetera poi vediamo che cosa c'è ancora di interessante i titoli del capitolo possono essere su fondo nero o su fondo bianco non cambiate il colore di fondo perché non ha nessun senso nell'immagine fotografica inserire una fotografia con lo fondo verde con lo fondo rosso non ha nessun senso quindi o decidete di svolgere il vostro racconto seguendo un filone bianco no? oppure nero però dovete stare all'interno potrebbe all'inizio potrebbe essere bianco no? il racconto e poi via via procede con allora qui avete che cosa? qui avete tre immagini che siccome non sono molto ampie queste immagini quindi l'attenzione non viene attirata tutta dall'immagine ma anche dal testo questo potrebbe essere chiaramente ma ad esempio non so l'illustrazione di una mappa del luogo dove vi trovate due elementi che caratterizzano l'ambiente che danno delle informazioni al lettore ma non siamo ancora nella storia per esempio o potremmo essere per esempio in un incipit per esempio sì questo certo perché magari svolgete una sorta di premessa alla storia e allora fornite qualche indicazione poi qui abbiamo anche qui un altro tipo di incipit differente anziché essere organizzato su tre viene organizzato su due decidete voi quello che vi interessa di più poi qui abbiamo ancora un'altra variante sono riguarda sempre l'inizio della storia poi avete i protagonisti qui ne ho messi cinque potrebbero essere sei allora spostate e ne aggiungete uno potrebbero essere due quindi togliete gli altri e le disporrete al centro oppure potrebbero essere organizzati anche così i protagonisti con due parole di presentazione per ognuno i protagonisti possono essere anche degli oggetti nulla vi vieta di creare la storia fotografica sul vostro vaso da fiori sul vostro coltello da cucina su una castagna che hai trovato in un bosco poi qui invece proprio ci addentriamo nella storia nella storia vera e propria tutte le immagini che trovate sono fotografie mie quindi le potete usare senza problemi qui non avete un testo da inserire proprio un'immagine quindi a volte le immagini parlano da sole non c'è bisogno di aggiungere alcun testo qui invece avete un'immagine con un testo da aggiungere vedete lorem ipsum lorem ipsum non cambiate la grandezza l'ampiezza dei fonti cioè non trasformate questa riga in due righe o in tre righe o in quattro righe non riducete l'immagine per far sta dentro il testo perché non è più una storia fotografica nella storia fotografica parla la fotografia quindi però siccome la fotografia non parla da sola perché una fotografia ricordatevi questo una fotografia non racconta niente niente racconta in questa fotografia vediamo un tizio che io ho fotografato al Louvre di Parigi ma voi non sapete che è il Louvre di Parigi non sapete che è in un museo non sapete chi è questo tizio sapete solo che guarda il cellulare ma non sapete manco se il suo cellulare è spento perché lui potrebbe guardare un graffio che ha fatto perché cinque minuti prima gli è caduto quindi nessuno può raccontare una storia perché questa foto non racconta cioè la foto non racconta una storia ma voi sì voi potete raccontare una storia su questa foto è chiaro l'immagine non racconta mai niente specialmente la fotografia siete voi che raccontate qualche cosa partendo da una fotografia quindi dovete solo dare due indicazioni se voi qui scrivete ero preoccupato e in attesa tra i puntini di sospensione avete detto tutto avete aiutato il lettore a decifrare questa immagine perché perché siete voi a costruire la storia a dire al lettore che cosa deve vedere in questa immagine altrimenti lui vede solo un tizio che mangia un cellulare è molto importante questo però non dovete raccontare al posto del lettore perché altrimenti scrivete un romanzo e non usate le foto in un romanzo a parlare il testo in una storia fotografica a parlare solo le foto guardiamo quest'altra soluzione anche quest'altra soluzione è molto elementare da un punto di vista testuale però abbiamo due immagini perché abbiamo due immagini quando si usano due immagini allora guardate anzi ascoltate prestate attenzione una immagine non racconta io ho un tizio che legge un libro lo vedete tutti è un tizio seduto a un tavolino se guardate bene il titolo di questo libro è in lingua boh che lingua dovrebbe essere francese perché ero a Parigi esatto L'Otremont legge L'Otremont pensate un po' quindi se guardate bene sapete che c'è un tizio che legge L'Otremont siccome ci sono due tizi dietro a un tavolino con un caffè sembrerebbe un bar sembrerebbe perché voglio dire non si sa con certezza ma sembrerebbe un bar un bar francese un bar dove si parla ma potrebbe essere anche uno straniero in Italia che legge un libro francese a Torino ce ne sono tanti francesi che girano e che leggono perché sanno leggere anche i francesi ma attenzione 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 nel momento in cui io inserisco un'altra immagine a fianco di questa voi non potete non collegare le due immagini e quindi porvi una serie di considerazioni ma quest'uomo che oltretutto come direzione sembra rivolgersi da questa parte entrerà in questo bar da questa c'è un legame ecco che la storia comincia a essere creata non più da voi ma dalle immagini la storia si crea dalle immagini quando quando abbiamo almeno due fotografie in successione ma quando ne abbiamo una sola noi non abbiamo una storia abbiamo un tizio che sembra Nightmore va bene uno può dire può essere la storia di Nightmore ma finisce lì perché non hai la minima idea di quello che sta succedendo invece con due immagini ecco che tu hai una successione cioè poni il lettore di fronte a un tema qual è il collegamento con queste due immagini? ma voi direte ma il lettore si pone sempre questo problema? sì il lettore se lo pone sempre tutte le volte che ci sono due fotografie in successione accostate ecco che il lettore cerca un legame perché perché nella nostra intelligenza umana appunto il nostro apparato cognitivo tutto deve avere un senso non ammettiamo cose che non abbiano un senso che non siano spiegabili in qualche modo e quindi automaticamente il nostro cervello cerca una correlazione anche fra immagini molto diverse lo sapevate questo? ha un nome questa cosa se volete segnarvelo si chiama quando andate a cercare lo studiate si chiama principio di Kulesov con la K Kulesov che era un cineasta russo il quale ha stabilito con certezza il meccanismo che sta alla base della decodificazione di due immagini affiancate o in successione è il principio di Kulesov il principio di Kulesov è il principio che io ho utilizzato per creare la storia dei due Labrador perché mettendo insieme anche casualmente le immagini tu hai delle correlazioni ti vengono in mente delle relazioni e a partire da lì scrivi una storia quindi vedete che rispetto al modo istituzionale che vi hanno insegnato voi applicate magari con i vostri studenti di costruzione di una storia che parte dalla ceneggiatura che parte dalla scrittura della trama quindi parte da un'elaborazione mentale di tipo simbolico potete invece rovesciare il procedimento completamente partire liberamente dalle immagini ah vi do un'indicazione incredibile ma questo è proprio questo è proprio una perla perché perché se voi andate nel mio canale YouTube che tra l'altro ho a disposizione di tutti con centinaia di webinar lezioni eccetera vi metto allora vi aggiungo un link del mio canale qua link al canale di Alberto Piandi YouTube perfetto la vediamo allora se voi visitate il mio canale voi trovate subito un film un filmato della durata di 20 minuti questo filmato si intitola Hamilton Ball ed è una storia vi faccio vedere solo l'inizio perché voi abbiate un'idea proprio i primi secondi mi chiamo Emult Ball il mio nome vi dirà poco anche quando sono stato in vita ha detto poco a molte persone Emult Ball non è quasi mai esistito al suo posto ci sono stati Franz Landau Stephen Hilton Raul Muller ci sono stati anche John Gardner e perfino un Roger Castri il 17 giugno del 1953 quando a Berlino Est i carri armati russi erano rispinti a colpi di bastone io avevo 15 anni e stavo dalla parte dei russi nel 45 la mia famiglia venne esterminata dai nazisti e io che ero un bambino che non sapeva né leggere né scrivere venni salvato dall'armata rossa per questo il 17 giugno del 1953 mi ritrovai dalla loro parte contro il mio popolo ci sono voluti tanti anni perché capissi come stavano le cose basta poi ve lo vedete allora questo perché vi parlo di questo filmato perché questo filmato applica intiramente il principio di Kulesow cioè sono partito in un viaggio attraverso l'Europa la Germania qualche paese del nord con una telecamera professionale e con l'intento di ricavare immagini casuali per costruire una storia ed è nata la storia di Hamlet Bull agente dei servizi segreti della Stasi e proprio applicando esattamente il principio di Kulesow poi le immagini le ho degradate ovviamente perché dovevano sembrare immagini di archivio e quindi poi vi vedrete questa storia ma questa storia è proprio l'emblema del principio di Kulesow all'epoca del digitale perché oggi col digitale chiunque può realizzare un film un prodotto un prodotto partendo veramente dall'applicazione di questo principio va bene adesso torniamo a noi ok ve lo siete segnato sì cosa stiamo guardando qua quindi vi ho parlato dei due del significato di questo vediamo altri altri interessanti che possono essere qui ecco per esempio potresti avere delle immagini di effetto di questo genere potresti aver scattato delle fotografie pazzesche queste sono tutte fotografie che ho scattato a Parigi durante un viaggio e qui siamo nei pressi della torre Eiffel queste sono queste cose che sembrano fantascientifiche sono in realtà i proiettori che sparano sulla torre Eiffel le loro luci allora presentati in questo modo voi potreste aver bisogno magari di una spiegazione un po' più lunga in questo caso oppure potreste anche fare a meno di qualsiasi spiegazione per poi continuare la storia raccontando altre cose però in questo caso ecco a me serviva perché volevo anche mascherare un po' questa parte e quindi concentrare l'attenzione solo su questo effetto dunque bisogna ragionare su come trattare le immagini raccontare con le immagini non è un io non so come fare veramente a volte a far capire proprio bene questo concetto perché oggi viviamo in un mondo di immagini che è una cosa incredibile straordinaria e pazzesca ne siamo sommersi e questo ci impedisce di ragionare di ragionare sulla fotografia e sull'immagine stessa ora se volete fare una buona cosa per voi stessi e con i vostri studenti voi dovete prendervi il tempo necessario vedo che le immagini vengono trattate così rapidamente si fa una ricerca si guarda si prendono si usano no noi dobbiamo prenderci il tempo di esaminarle guardarle ragionare su che cosa puntare sul tipo di inquadratura dove va l'occhio che cosa vogliamo raccontare ci va tempo per fare questo e non è tempo buttato via perché è un tempo educativo un tempo che ci educa ecco questo interessante perché noi possiamo estrapolare un dettaglio da qualsiasi cosa quindi userete questa struttura per inserire la fotografia di qualsiasi elemento e poi un suo particolare qui ovviamente con una descrizione questo è un carattere forse più didattico che narrativo però l'ho inserito perché proprio potrebbe essere utile qui ecco che vi ricordate che avevate due qui siamo in Toscana invece vi ricordate che avevate due vi avevo fatto vedere da qualche parte una rappresentazione con due fotografie così con la storia che continua ah sì l'avevamo visto nella storia dei Labrador proprio poi può essere interessante anche una composizione di questo genere va bene questo giudicherete voi oppure ecco l'immagine rotonda come si fa a creare con Keynote da da Mac voi cercate immagine maschera con forma ovale quindi ricordatevelo formato immagine maschera con forma ovale quindi ovale eccolo qua che mascheriamo ovale l'ovale è questo qui piccolino quindi poi la dovete ridurre chiaramente l'interno e qui con ovale voi sistemate la maschera dell'immagine poi vediamo delle altre caratteristiche che possono essere utili va bene altra forma altra forma triangolare qui abbiamo la stessa fotografia che è inserita due volte perché la direzione è data da questa curva o iperbole e naturalmente la fine quando una storia finisce prima a dirlo la storia finisce quindi una bella conclusione e poi eventualmente anche ringraziamenti dopo la fine della storia ringraziamenti a Tizio Caio e Sempronio adesso che cosa prevede il nostro programma intanto continuato ad aggiungere delle risorse questo questa parte qua è infinita dunque dunque abbiamo 40 minuti 20 20 40 e che distribuiamo in questo modo facciamo in una prima parte organizziamo invece una fotostory attraverso la creazione di una landing page quindi una pagina internet poi vedremo come si può fare un docufilm in 5 step quindi una cosa una forma di struttura siete pronti ok sì sì pronti 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 bene eccolo qua perfetto dunque allora prima di tutto allora prima di tutto prima di tutto un consiglio che è questo dall'iPad per creare una pagina internet che rappresenti una fotostory utilizzate questa applicazione spark page vi ho dato l'indicazione già nei compiti anche nelle cose quindi spark page che fa sempre parte delle applicazioni per dell'adobe creative come si chiama express adobe express da internet da internet invece usiamo adobe express poi vi faccio vedere in che modo allora come strutturiamo questa parte viene strutturata in questo modo io prima vi mostro che cos'è una foto web story quindi non una foto story ma una foto web story cioè una foto una storia fotografica che può essere rappresentata attraverso una landing page che cos'è una landing page una landing page una pagina a scorrimento una pagina web a scorrimento naturalmente per costruire questa storia usiamo gli stessi criteri che abbiamo adottato per tutto il corso sono criteri di bellezza con colori bellezza con accostamento anche casuale ecco che procediamo quindi con il vedere intanto una storia e qui avete il link quindi creare e pubblicare foto web story è una narrazione di ispirazione che ho creato apposta per mostrarvi come può essere strutturato un risultato di questo genere dove trovate il link? il link lo trovate nei lavori del corso naturalmente è l'ultimo che ho inserito si chiama Alberto Piano non ha inserito il nome del prodotto ma il mio quindi qui c'è il link quindi lo potete seguire anche contemporaneamente a me facendo click su questo link e scorrendo poi la pagina allora vediamo subito che si tratta di una pagina a scorrimento quindi guardate che la faccio scorrere vedete? scorre 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 perfetto adesso torniamo all'inizio vediamo che qui c'è un'immagine di sfondo e qua un titolo e poi anche l'autore quindi è come se fosse una copertina abbiamo scoperto che questa pagina web quindi ha una specie di copertina naturalmente poi vi insegno a crearla crearla è molto semplice perché attraverso il sistema di Adobe di Adobe Express che abbiamo già utilizzato due volte per creare la grafica delle strisce dei post e per creare l'istante video vedrete che vi ci ritroverete immediatamente quindi io vi darò più che altro dei suggerimenti su come procedere chi non volesse utilizzare questa applicazione o non potesse può utilizzare Google Site Google Site è a disposizione di chiunque abbia un account di Google ha certo non ha tutte le funzionalità e la bellezza di questa applicazione però insomma un risultato lo ottiene allora partiamo qui abbiamo un'immagine di sfondo il titolo creare e pubblicare foto web story il vostro titolo potrebbe essere qualcosa che riguarda la vostra passione quello che volete voi allora prima di tutto dobbiamo lasciarci ispirare ispirare che cosa vuol dire vuol dire osservare le storie fotografiche pubblicate da altri è importante questo dove trovate queste storie fotografiche beh le trovate in Adobe Express perché quando cercate modelli popolari eccetera e cercate modelli di pagine web quindi voi qui trovate tante storie fotografiche che hanno diverse modalità per essere per essere viste queste sono delle immagini di copertine di alcune delle storie fotografiche che voi trovate all'interno dell'applicazione quindi è importante quando si lavora con la creatività e la bellezza farsi ispirare non esiste una creatività che parte da zero cade dall'alto e arriva così sulla pagina bianca quindi prendete spunto e infatti questo lavoro che ho preparato serve proprio per aiutarvi a ispirarvi poi date un'occhiata alle inquadrature e ai racconti cioè che cosa viene inquadrato come l'immagine viene presentata e come viene raccontata in parte queste cose ve le ho spiegate prima con il modello di Keynote però qui hanno un'altra disposizione perché il modello di Keynote è una sorta di libro che pagina dopo pagina sfogli qui invece abbiamo uno sviluppo orizzontale scusate verticale della pagina quindi anche le disposizioni grafiche e i testi le narrazioni sono diverse e questi sono sempre degli esempi presi da Adobe Express Partiamo anche dal presupposto di scegliere immagini casualmente per esempio io sono partito proprio da un'immagine casuale un'immagine che pone domande no? Per esempio questa è una buona immagine perché è una buona immagine? Non tanto per la fotografia non è una gran foto però interessante l'inquadratura è una grande inquadratura perché? perché questa signora vestita sta andando da sola verso il mare che cosa andrà a fare da sola vestita verso il mare? Noi abbiamo una foto che ci pone una questione e le immagini che ci pongono delle domande esigono delle risposte e quindi ci avvantaggiano nella costruzione di una storia anche se le immagini non sono perfette molto belle ben definite contrastate è una buona immagine però a me piacciono fotografie di un altro genere non importa perché in questo caso l'inquadratura è misteriosa c'è un mistero e vedete che un'immagine non racconta non dice niente dice solo che questa donna sta camminando verso il mare non possiamo dire nient'altro piange sorride ride pensa ha un telefonino in mano vuole andare al mare per gettare il telefonino alle ortiche non lo so no le ortiche nel mare non ci sono diciamo così per gettare al mare il telefonino non lo sappiamo però scegliamo adesso un'immagine una fotografia solo ed esclusivamente per la sua bellezza cioè noi non ci chiediamo niente su questa storia cominciamo ad accostare un'altra fotografia anzi facciamo così no giustamente rifacciamo questa presentazione perché è la donna misteriosa e quindi applichiamo una tecnica di rappresentazione fotografica che poi ritroveremo all'interno dell'applicazione che useremo quindi non la presentiamo così di botto proprio perché c'è un mistero guardate cosa facciamo la rifacciamo la facciamo comparire un po' per volta guardate così prima questa striscia di sabbia poi le gambe a dire che sta camminando poi la parte superiore poi l'immagine tutta intera quando abbiamo una fotografia che esprime una sorta di incognita di mistero di tema da risolvere non proponiamola tutta insieme possiamo farlo attraverso questo sistema facendo comparire delle parti di questa fotografia fino a che poi il lettore la vede lo spettatore la vede nella sua intierezza seguiamo la bellezza adesso quello che vi dicevo prima qui abbiamo seguito che cosa la suspense abbiamo seguito il mistero non abbiamo voluto svelare tutto subito ma adesso lo spettatore qualcosa si domanda ma dove va questa persona allora scegliamo un'altra fotografia che non c'entra niente nel senso che noi ci riferiamo magari all'ambiente ma la scegliamo per la sua estetica quindi per esempio io ho scelto questa che non ci dice ancora niente su quello che fa questa signora ma è questa indiscutibilmente una bella fotografia con dei bei colori un paesaggio straordinario una visione grandangolare l'ambiente però potrebbe avere anzi deve avere un'altra fotografia che si associ sempre scelta sul criterio della bellezza allora io ho trovato questa questa mi è piaciuta molto mi piace questa mi piace la foto mi piace l'ambiente mi piace il piccolo balenottero con la mamma balena si suppone non c'è non c'è non c'è un cartellino con scritto mamma e figlia ma comunque mi sembra evidente che l'interpretazione possa essere questa mi piace questa scia mi è piaciuta adesso cosa facciamo rifacciamo perché abbiamo tre fotografie abbiamo questa abbiamo scelto questa abbiamo scelto questa possiamo cominciare a raccontare una storia vediamo cosa salta fuori allora riprendiamo tutto in un altro modo quindi la storia parte da adesso vediamo cosa succede wow questa sabbia sabbia calda e seducente aggiungiamo dei brevi testi narrativi sabbia calda seducente wow poi si scoprono le gambe poi la persona nella sua interezza andare verso l'ignoto wow come la corsa di Marta Marta corre verso l'ignoto e dove corre? ecco l'ambiente in cui si trova bellissimo che effetto questo accostamento di immagini determinato solo dalla loro bellezza come i movimenti dei cetacei quindi abbiamo paragonato e creato un rapporto tra la corsa di Marta importante nominare le persone non questa donna ma Marta allo spettatore piace la contestualizzazione non troppa perché vogliamo essere un po' misteriosi ma Marta è il suo nome e accostiamo la corsa di Marta al viaggio di questi di queste queste balene poi che cosa facciamo? boh non lo so a me è venuto in mente un ricordo io ho cercato delle foto belle qualsiasi questa pesca no? ci sono dei pesci c'è il mare pesca forse ricorda esperienze di pesca di alto mare persone che hai incontrato momenti romantici ho trovato questa bella foto in bianco e nero anche quest'altra che hanno a che fare col mare stabiliamo un collegamento magari la solitudine ho trovato questa bella foto magari Marta Marta che si sente sola non lo so poi lo stupore bellissimo questo questo è un acrobat della pesca incredibile fantastico allora abbiamo trovato questa che mi piace molto questa anche mi piace perché mi richiama Marta non so anche la sua solitudine sulla spiaggia queste mi piacciono molto anche notate che non sono la stessa persona questa non è la stessa persona non è la stessa persona non è la stessa persona e non è neanche la stessa persona ma non importa perché lo spettatore non se ne accorge lo spettatore guarda la storia non va a vedere questi dettagli questi dettagli li vedono gli esperti che poi decodificano il messaggio ma non lo spettatore quindi ricordatevi di questo allora cosa facciamo? continuiamo rifacciamo partiamo da qua iniziamo non più da questa immagine qua così ma le mettiamo insieme in questo modo queste tre quindi abbiamo l'ultima era quella dei pesci delle balene che viaggiavano poi ci sono queste tre immagini quasi piccole in alto quasi a determinare un ricordo e poi sotto lei che pensa magari e poi il viaggio le persone la pesca il matrimonio e poi questa perché questo è veramente lo stupore questa è proprio la bellezza dello stupore è l'incognita è l'equivalente della fotografia dei due balenotteri che è un equilibrio estetico incredibile e ora quella acrobata che giocava sulle onde e poi la storia continua continuatela voi il racconto un po' per volte è stato riempito casualmente se vuoi sapere come andrà a finire segui ti farò leggere altre pagine ma forse anche no perché tanto vabbè qui ci sono delle considerazioni sullo statuto semiottico della fotografia poi le vedrete eccetera però quello che conta è che abbiamo costruito l'inizio di una storia fotografica attraverso una landing page a scorrimento e gli effetti che questa landing page può creare per esempio questa questi effetti a comparsa scegliendo solo delle fotografie casuali determinate dalla bellezza che tra loro bellezza è così dall'istinto che mi portava a scegliere queste fotografie e abbiamo creato una storia la storia di Marta che in qualche modo ricorda vedete ricorda durante un viaggio con un viaggio di queste due balene cosa ricorda ecco qua ricorda i momenti particolari e la bellezza di quello che è stato colto in questo viaggio va bene tutto chiaro fino qui vediamo come si costruisce ci siete ci foste ci sareste sì ci siamo sì vi è piaciuto molto moltissimo bellissime anche le foto sì non sono mie le foto queste non sono mie le abbiamo scelte da una banca dati di foto che Adobe Express ci mette a disposizione e che adesso io vi insegno anche a utilizzare perché questo è un esercizio incredibile bellissimo allora qui abbiamo l'iPad ve lo faccio vedere poi tramite l'iPad ma adesso ci dedichiamo dieci minuti alle venti e trenta finiamo perché ci va proprio poco e poi vi mostro quello schema del documentario allora che cosa facciamo usiamo Adobe Express per tramite internet va bene poi vediamo un attimo quindi quando siete dentro questa questo ambiente che ormai conoscete tasto su più e cerchiamo dove si costruisce una pagina web eccola qua pagina web basta facile pagina web siamo arrivati aggiungi un titolo beh è proprio da come si chiama scusami mi sono già persa quindi se lo facciamo su iPad usiamo Spark Page sì ok perfetto adesso ve lo faccio vedere Spark Page no no stavo seguendo da Spark Page stavo provando guarda l'unica cosa che cambia è l'inizio che è diverso delle due applicazioni ma Adobe Express se io lo apro da pc mi chiede di fare la prova gratuita che immagino che sia brevissima o c'è un modo per bisogna acquistarlo necessariamente no no è gratuito questo l'abbiamo già visto qualche incontro fa non posso adesso dilungarmi no 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 andrò a vedere la registrazione sì sì abbiamo devi fare le tue devi iscriverti gratuitamente e tutte le cose adesso non posso perdere tempo perché abbiamo il tempo contato quindi quindi pagina web quando voi scegliete pagina web da questo punto in poi avete la stessa cosa e qui scrivete il vostro titolo va bene è banale non sto neanche a farlo poi aggiungi il sottotitolo va bene poi guardate il tasto più qui avete i tasti più i tasti più li avete trovati in tutte le applicazioni adobe express che abbiamo usato quindi non c'è tanta spiegazione da fare qui però aggiungete la foto aggiungete proprio una foto che riempia poi naturalmente potete fare degli esperimenti ma il mio suggerimento è di inserire proprio una foto come fate inserire la foto vedete che si apre la possibilità di o caricare una vostra foto o di cercarla quindi se cerchiamo non so per esempio qualcosa che ha a che fare col mare scegliete una foto gratuita non quelle con la coroncina che sono a pagamento e qui potete scegliere avete veramente una quantità incredibile ed ecco che avete lo sfondo lo sfondo il titolo poi il nome il vostro nome e cognome l'autore di questo lavoro poi una volta che avete creato la copertina quando fate click o volete scendere lui automaticamente vi dice scorri per iniziare a scrivere la tua storia vedete che è proprio prova di scimmia no? for dammi come si dice quindi che cosa farete? beh prima di tutto un testo scrivete un piccolo testo di presentazione non una cosetta qua qualsiasi un testo poi il testo io non mi sto neanche a spiegare queste cose perché le vedete è come essere dentro un minimo di applicazione di videoscrittura poi sotto avete di nuovo un più quindi proseguite a scorrere verso il basso e col tasto più aggiungete che cosa aggiungete? allora questo ve lo voglio far vedere cioè aggiungete per esempio una foto quindi scegliamo questo questa cosa di caricare la foto quindi ne prendiamo un'altra bene e adesso che abbiamo questa foto abbiamo anche però la possibilità di scegliere in che modo viene visualizzata vedete che così non va bene non possiamo passare da un'immagine di copertina che prende tutto lo schermo a una così più piccola no? diamo ancora una sorta di continuità quindi per esempio facciamo così facciamo la finestra ed ecco che a finestra guardate cosa succede l'immagine scorre vedete che scorre a finestra scorre e qui di fianco possiamo aggiungere una didascalia basta scrivere abbiamo una didascalia e ci ritroviamo esattamente nel racconto guardate vedete che l'immagine viene scoperta e qui c'è una didascalia è uguale siamo esattamente qui viene scoperta e c'è una didascalia vediamo altre possibilità video lo sconsiglio se creiamo una storia fotografica lasciate perdere il video vediamo un glide show che cos'è il glide show glide show dobbiamo aggiungere diciamo così tre o quattro foto una, due, tre e prendiamo anche questa questo è un glide show possiamo stabilire la direzione delle immagini cioè nel senso di che cosa si vede prima cosa si vede dopo proviamo a salvare ed ecco che cosa succede succede questo che scorriamo e poi abbiamo un'immagine che si sovrappone all'altra in dissolvenza guardate che effetto incredibile molto bello un effetto bellissimo possono bastare anche due fotografie per non esagerare quindi non lo so questa la togliamo va bene questa la mettiamo all'inizio guardate che effetto creiamo perché abbiamo così così abbiamo il mare poi dentro e poi i pesci guardate l'effetto quindi siamo partiti da così qui si scrive qualcosa d'accordo e poi abbiamo il fondo marino poi in dissolvenza ecco che vengono fuori gli elementi di questo fondo marino e da qui di nuovo in dissolvenza vengono fuori i pesci un effetto bellissimo che possiamo corredare scrivendo quindi nel glide show possiamo aggiungere di nuovo un testo anzi di più nel glide show possiamo aggiungere più cose guardate possiamo aggiungere foto testo un pulsante questo video lo lasciamo perdere perché non c'entra proprio niente allora creiamo una foto un video story a landing page a scorrimento quando arriviamo alla fine secondo me possiamo aggiungere tranquillamente una foto per esempio possiamo aggiungere facciamo finta di trovare ecco questo va bene possiamo aggiungere questa e qui una didascalia e se vogliamo qui sotto anche un testo rifacciamo rivediamo tutto è bellissimo ah vediamo l'anteprima pulsante di anteprima così spariscono tutti i bottoncini pulsante di anteprima caricamento della pagina storia l'autore fantastico qui abbiamo un testo quindi si interrompe la narrazione scrivere qui siccome non abbiamo scritto niente spariscono qui gli affari là per i posti per scrivere poi guardate dissolvenza guardate ancora continua ad andare sotto dissolvenza e poi compare la tartaruga con la sua spiegazione è fantastico no questo altro che powerpoint super poetico certo questo è un modo di rappresentare le cose altro che powerpoint buttate via powerpoint oppure lo usate come vi ho insegnato io per creare dei modelli ma per il resto è finita l'epoca delle presentazioni o delle narrazioni con le slide basta slide abbiamo bisogno di storie da raccontare con belle immagini e bei racconti e poi niente poi vi scoprite questa applicazione come funziona è molto semplice giocate la condivisione è la stessa pubblica condividi il collegamento quindi avete il link distribuite il link e tutti possono vedere la vostra creazione e se la modificate il link rimane lo stesso va bene? abbiamo due minuti di anticipo sulla tabella di marzo vi piace? volete dire qualcosa? ah c'è una cosa che vi posso dire ancora guardate qui sulla destra i temi temi potete cambiare il tema per esempio vedete che qui c'è uno spazio bianco tra una fotografia e l'altra potete usare questo tema possiamo usare possiamo usare mi suonare il telefono allora possiamo usare questo tema oppure questo allora cambia il modo con cui non avete tante scelte perché? perché questa applicazione è fatta per creare delle buone cose e quindi se foste voi a pasticciare sul tema come eccetera dato che non conoscete almeno quelli di voi che non conoscono i principi della comunicazione visuale farebbero solo dei pasticci e poi per esempio gli studenti perderebbero un sacco di tempo a mettere qui le barrette le righette invece devi scegliere scegli a me piace per esempio netcap per la fotografia ma anche quello di prima era molto bello con questo anche bianco col passaggio bianco crisp crisp è molto elegante è il primo che abbiamo utilizzato d'accordo? poi dovete lavorare poi ve la scoprite ma è molto semplice da usare può essere utilizzata anche come presentazione infatti al posto dell'anteprima avete la presentazione allora occupa tutto lo schermo quindi anche del videoproiettore eccetera e funziona così molto più bello di qualsiasi slide poi potete spostare vedete questa tartaruga che ho infilato qua se voi acchiappate questa finestra potete collocarla al centro oppure al fianco a secondo al centro non va bene di solito perché si sovrappone alla parte centrale della fotografia che si suppone sia quella che dovete vedere quindi o al lato sinistro o al lato destro va bene vediamo l'ultimo argomento comincio a essere un po' stanco anch'io devo dire ho parlato quasi ininterrottamente tutto il tempo spark page funziona nello stesso identico modo qui guardate traete ispirazione dalle vostre storie poi tasto più e a questo punto vedete che è uguale è identico non cambia niente i pulsantini e tutto il resto uguale cambia solo l'inizio ovvero avvio per il resto è identico ci siete avete domande osservazioni no ero solo presa dalla creazione mi ero un attimo rapita cosa non ho capito ho detto ero presa dalla creazione ero rapita da questa pretezza hai ripresa prendono ste cose stiamo smanettando prendono i creativi allora sentite adesso parliamo del documentario in 5 step va bene vi va è semplice sì allora dove parliamo cioè in che modo ne parliamo qui tra le risorse avete docu film in 5 step jpeg e voilà quindi questo no dove ah questo eccolo qua docu film in 5 step jpeg allora questo è il piano di montaggio di iMovie ma non importa può essere una qualsiasi applicazione qual è il tema il tema è che badate bene fate una grande attenzione a quello che vi dico adesso il tema è questo un documentario si gira nel luogo in cui si vuole raccontare qualche cosa giusto cioè se voi qui a Torino c'è un museo egizio va bene se voi volete realizzare un documentario sul museo egizio cosa fate andate al museo egizio giusto con la vostra classe giusto ora la domanda è questa voi pensate che il direttore del museo egizio vi lasci filmare registrare con gli allievi che parlano fanno la presentazione tutto all'interno del museo no anche il figlio di Piero Angela deve chiedere tutte le procedure una trafila burocratica che non finisce più per riuscire forse a fare qualche ripresa dentro il museo egizio giusto però voi volete realizzare un documentario perché domani avete la visita al museo egizio i vostri ragazzi hanno tutti il cellulare i filmati si possono fare ma come cavolo fate a fare un documentario con uno che presenta spiega le cose e tutto giusto è molto semplice voi fate così darete indicazione ai vostri studenti di fare dei filmati in un certo modo cioè tenendo il cellulare rettangolare non verticale basta con quelle con quei filmati verticali assurdi il film è orizzontale in 16 nove quindi cellulare orizzontale due mani ferme e contare fino a dieci o fino a cinque anzi diciamo così fino a cinque meglio ogni ripresa quindi siamo davanti alla alla che ne so alla piroga di Tutankhamon pronti via uno due tre quattro cinque fermi poi si cambia si stoppa quindi avremo tanti film di cinque secondi e poi andiamo in classe e in classe cosa facciamo in classe scriviamo la sceneggiatura scriviamo la sceneggiatura poi qui mettiamo qui dietro mettiamo un pannello verde un green screen ovviamente non vi posso spiegare tutte queste tecniche come funzionano perché cioè non è questo un corso sul montaggio video però se voi mettete un green screen oppure siete in classe e state su una parete bianca una semplice parete bianca per dire ecco che voi potete fare procedere in questo modo e cioè prima avete la presentazione vedete punto numero uno presentazione quindi in classe qualcuno su una parete bianca fa una breve presentazione del documentario quindi adesso ci richiamo al museo egizio dove vedremo questo e quest'altro eccetera eccetera poi due mettete un'immagine di collogamento cioè una fotografia vedete due la fotografia di un dettaglio vedete che sotto c'è una musichetta mentre qui abbiamo il parlato distinguete il parlato dalla musica perché il parlato ha un'onda sonora meno alta mentre la musica occupa più spazio poi che cosa fate poi punto numero tre filmato di documentazione ecco che avviate il film di documentazione cioè i vari filmati che avete montato insieme che avete scelto che avete selezionato cominciate con la tomba di Tutankhamon va bene il tre sarà non solo la tomba di Tutankhamon e il quattro che cos'è il quattro in sovrapposizione è un picture in picture cioè iMovie offre questa possibilità di registrare nuovamente una spiegazione sulla tomba di Tutankhamon che voi realizzate in classe quindi la spiegazione avviene proprio in aula la sovrapponete e qui in un riquadro appare sapete come ai telegiornali quando c'è non so le immagini della guerra eccetera e poi in un riquadro c'è il cronista che parla avete presente? Ecco lui realizza la stessa identica cosa quindi attenzione attenzione se voi qui come riquadro prendete solo la testa dello studente tanto non serve altro lui potrebbe essere anche al Museo Egizio e date l'impressione che la registrazione di ciò che è avvenuto al Museo Egizio e della spiegazione dello studente sia avvenuta contemporaneamente proprio sul luogo e invece no non è così quindi ripeto potete usare queste tecniche senza neanche usare lo green screen che magari vi complica la vita ma parete bianca presentazione poi foto di stacco perché non entriamo subito nel ma foto di stacco lo spettatore si mette a suo agio e inizia iniziano i vostri filmati sul Museo Egizio sopra questi filmati montate che cosa? di nuovo la spiegazione dello studente o vostro a quello che è però avendo accortezza di riprendere solo dalle spalle al viso sempre su una parete bianca e basta lo montate in modo che appaia si chiama picture in picture cioè finestra nella finestra una piccola finestra sopra la tomba di Tutankamano come volete voi poi continuate con 5 5 un filmato adobe si qui diciamo diciamo un filmato di chiusura d'accordo con delle immagini delle fotografie una chiusura e poi nero i titoli di coda quindi vi suggerisco di entrare nel Museo Egizio con una fotografia e di uscire dal Museo Egizio o da dove siete con un altro meccanismo di chiusura che potrebbe essere un insieme di immagini di fotografie eccetera realizzate al museo e poi la chiusura con questa tecnica voi potete far finta di essere in Australia New York a Palermo dove para voi dove para voi il principio è che voi riprendete la spiegazione solo nella testa e zac la inserite in un picture in picture all'interno di filmati che avete girato per conto vostro senza diciamo durante l'uscita scolastico quello che è ma senza aver realizzato proprio il documentario il luogo cosa impossibile da fare o perché c'è rumore c'è gente o perché non avete i diritti le autorizzazioni eccetera eccetera naturalmente dai filmati che avete registrato nel Museo Egizio togliete l'audio oppure li registrate senza sonoro sonoro non serve a niente vedete cinque step no erano sei perché vabbè ci sono i titoli di coda basta e sono le 20 e 40 e abbiamo spaccato proprio eh forte no? cosa dite qua un sacco di cose quante cose avete imparato un sacco di cose avete imparato ci sono domande problemi dubbi incertezza uno stato d'ansia un dubbio che va a corre un problema che verode ciao Liliana vedevano i godi adesso devono lavorare su queste cose quindi ci vuole un po' di tempo prima di fare qualche domanda eh ma siccome battono la fiacca non faranno niente no non battono la fiacca adesso io sento delle urla qua non le senti queste urla è la fiacca che piange senti? qualcuno la sta battendo sono tutti dei grandi lavoratori dai sì lo so lo so Alberto ce la faremo dai sono sicuro se no non mi sarei messo a fare questo corso sono sicuro certo no comunque ti ringrazio penso anche ai colleghi perché comunque tantissimi input però giustamente come diceva il collega ci vuole il tempo anche un attimino di rivedere e poi di mettere in pratica sì certo grazie davvero di tutto grazie mi raccomando creatività bellezza avete capito il ruolo centrale che la creatività va bene la creatività va bene ma la bellezza se la creatività non è guidata dalla bellezza non ha nessun senso chiaramente governerà il mondo speriamo eh volevo solo dire una cosa ai colleghi mi ha detto perdonami gli invierò una mail con un questionario di cadimento non lo faccio adesso perché sto col tablet quindi gli invierò la mail magari entro stasera così appena hanno tempo un giorno un paio di giorni se possono rispondere al questionario di cadimento tutto good very good tutto diritto è vero Carmela però possiamo mettere l'evi iscritto Carmela allora grazie buone cose a tutti alla prossima buona serata alla prossima buona serata buona serata buona serata buona serata buona serata buon anno scolastico buona serata buona serata